Benvenuti all'ospedale San Raffaele, centro di riferimento nazionale per il trattamento e la ricerca nel campo delle neoplasie dell'apparato genitale femminile. La Fondazione Pardi supporta il nuovo laboratorio di scienze riproduttive e i suoi giovani ricercatori che con il loro contributo portano avanti con entusiasmo la ricerca associata. Hola, sono Ana e grazie alla Fondazione Pardi mi occupo sul progetto dell'endometriosis, una malattia che colpisce circa il 35% delle donne in realtà fertile. Ciao, sono Alessandra e mi occupo dei problemi legati alla fertilità femminile. Attualmente sto lavorando sulla risposta immunologica nelle prime fasi di gravidanza grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione Pardi. Aiutare la Fondazione Pardi è aiutare anche te.